Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme le caratteristiche del Ball Mustiff. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Vuoi vedere delle razze particolari? Allora scrivilo nei commenti e saremmo felici di portarti un episodio dedicato! Il Ball Mustiff è un cane possente, di grande taglia, muscoloso e dedito alla protezione della propria casa. La sua altezza media negli esemplari maschi varia tra i 63 e 68 cm e con un peso ideale di 49-59 kg, mentre nelle femmine l'altezza è compresa tra i 61 e 66 cm e con un peso ideale di 41-49 kg. Le sue origini trovano collocazione nel Regno Unito, dove Sam Monsley diede origine al Ball Mustiff, incrociando un Bulldog ed un Mustiff. L'obiettivo era quello di dare vita ad un cane particolarmente attento e adatto alla guardia. Una caratteristica davvero interessante di questa razza è il suo amore senza fine per la sua famiglia. Possiamo tranquillamente affermare che il suo istinto protettivo deriva proprio da questo sentimento e legame fortissimo che prova. Il suo carattere è quello di un cane buono e un gran giocherellone ed è affettuoso anche in presenza di bambini. Tuttavia non ama rimanere da solo. La solitudine infatti è per lui un momento di sofferenza, quindi se stai valutando di prendere questo cane, assicurati di trascorrere con lui tempo a sufficienza. Il Ball Mustiff è infatti molto sensibile e ha bisogno di un costante contatto con il suo padrone e con la sua famiglia. Ama inoltre trascorrere del tempo a giocare all'aria aperta. Con gli estranei invece appare diffidente. Deve prima comprendere se questi rappresentino una minaccia per il nucleo familiare e successivamente se può fidarsi. I tratti distintivi del suo carattere sono affettuosità, tanto istinto, protezione verso le persone che ama e lealtà. Inoltre occupa un ruolo molto importante anche la sua forza fisica che non va sottovalutata. È importante precisare una cosa. Una razza così imponente non è adatta ad un proprietario alla prima esperienza. Nonostante il Ball Mustiff sia un amico molto intelligente e coccolone, ha anche un indole a comandare e a dominare, aspetto che lo porta spesso a fare di testa sua. Visto questo dettaglio e suo aspetto che non passa inosservato, è importante impartirgli una giusta educazione fin dai primi anni di vita, mostrando anche una certa fermezza. Se sei quindi alle prime armi, ti suggeriamo di optare per altre razze più adatte a te. Per quanto riguarda la sua salute, non vengono riportate patologie particolari, tuttavia è bene prestare attenzione alle stagioni, in particolare al caldo. Essendo un cane a mascella corta, nelle situazioni con climi molto caldi e affusi, può avere delle difficoltà a respirare correttamente. Sarà importante dunque stare molto attenti in estate ed in primavera al fine di assicurarci che non soffra. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza importante, forte ma anche affettuosa, come il Bull Mastiff. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!